Siamo per fare lo scherzo a Lisa, chiamiamola Pronto? Ciao amore Ciao Visto che in questi giorni stiamo passando dei momenti insieme Volevo dirti che incominciavo a provare qualcosa di più Che è un'amicizia Cosa ne pensi? Qualcosa di più del tipo? Che scoprirà quello? Mi fa piacere Ok, quindi è una cosa positiva? Sì Ok Per te è negativa? No, no, no Per me è positiva Ma cioè, ma sei seria o stai scherzando? No, sono seria Ok, bene Solo questo mi devi dire? Sì Solo questo Sta piccola cosa Non è poi così piccola Cioè, dobbiamo sdramatizzare un po' Nuovo meme Ciao Ciao Voglio andare È stato un piacere Ciao È stato un piacere, gli hai detto E alla fine Vabbè, ciao Sei libera Ciao 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 Grazie a tutti